Se potete morire con già, se vuoi bere, potrebbe essere anche a te così, non potrò venire più fuori che Grillo gli è un iederone. Mai, che dici? Io non l'ho vista tutta, perché comunque è benissimo. Sono più qua che c'è la verità, a fare un brodo, però... Ma sei qua, se me lo farei, mi fai, no? Chi manca? Graziella! Graziella! Tre, caldi, rosso, canso destra, tre, uno, due, tre, Quattro, uno, due, tre, quattro, ok? Uno, due, tre, quattro, ok? Grazie! 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 Sì, ma no! Scusate, Raffaello, dici queste non le riprendi. Cosa? Questa è che hai fatto? Questa è che hai fatto? No, no, tra le due. Chi va bene? Non fate, cosa è bene? No! Vuole vedere, beh! Dico, sì! Grazie! 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 Grazie 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 Ok Ora Due Tre Quattro Cinque Ok Grazie 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 Grazie